Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Daniele Danzo, scusatemi, stava andando via la voce E oggi siamo ad un nuovo episodio della Legacy Challenge Allora, oggi è martedì Quindi in automatico dovremmo essere in linea con, diciamo, la programmazione Allora, come possiamo vedere dalla nostra Daniele Dovremmo prendere una promozione La nostra Daniele, ragazzi, va a bomba Stiamo già arrivando al livello 4 anche di questa carriera Vi ricordo che Daniele in questi praticamente 10 episodi Ha fatto il livello 4 della carriera politica, se oggi veniamo promossi E il livello 5 della carriera di social media Quindi devo dire che è davvero, davvero molto, molto ambiziosa, raga Facciamo la doccia con il nostro Volevo capire se ho l'attivazione autonomia totale Assolutamente Lui dovrebbe andare a lavoro oggi, credo Sì, finalmente Ricomincia anche lui ad andare a lavoro Se lui andasse anche nella... Cioè, se i suoi vestiti andassero nella biancheria sporca Automaticamente sarebbe molto più bello Allora, raga, mi avete detto Allora, innanzitutto Vi piace tantissimo la coppia Jerome-Daniel E sono di questo Molto, molto felice Ovviamente abbiamo il tratto in più Oh, sì Ora lo andiamo a leggere Abbiamo il tratto Ah, ma lei deve lavorare... No, facciamola lavorare sempre da casa Vai che mi è piaciuto l'altra volta Abbiamo questa cosa in più Basta, Mary Guerra, smettila Di abiti puliti Perché quando facciamo la lavatrice Esce questa cosa di abiti puliti Allora, siamo stati promossa organizzatrice comunitaria Daniele è stata promossa organizzatrice Abbiamo ricevuto il seguente bonus Ok, interazione Pronuncio un discorso da esperti Sul podio, raga Che bello Vediamo se ci hanno dato qualcosa Nell'inventario da poter vendere Per fare soldi Niente Mai una gioia Molto bene Allora, allora Lui va al lavoro alle 12 In realtà Quindi potremmo Tipo Venire qui E chattare un po' Socializza Chattacon Per l'appunto E io direi Di farlo chattare con Harun Bida Visto che ci troviamo Lei sta per svegliarsi Super giù Devo dire che vi è piaciuto Stavo dicendo Vi è piaciuto un sacco Vi piace un sacco L'accoppiata con Jerome E l'altra cosa che mi avete detto È di far Praticamente Dimagrire la nostra Danielle Come al solito Perché come voi sapete A parte trovare la pioggia Nei lotti Dove vado per fare delle cose Durante i miei gameplay L'altra cosa è che le mie simmine Sono davvero Nature Oddio Infatti senza trucco E questo essere Nature In realtà Significa Che ingrassano Raga, sì Perché le faccio mangiare Come non mai E poi Ingrassano Allora, allora, allora Oltretutto Tra gli eventi Raga Ho tolto Il Praticamente Il festival del raccolto E ci ho aggiunto A fine Praticamente Autunno L'Halloween Dove ho messo Bere Dolcetto scherzetto Indossa i costumi Racconta delle storie Spirito spettrale Manca ancora Praticamente Una settimana di gioco Con la nostra Danielle Per Arrivare ad Halloween Però volevo dirvelo Che magari Non so dove saremo In quel momento Ma magari Organizzeremo Una bella festa Di Halloween In tutto questo Servi la colazione Macedonia di frutta Tesoro Tu ti puoi fare Una bella macedonia Andiamo a vedere Raga Gli incarichi Inizia un dibattito Per la politica Di sinistra O di destra Discuti dei cambi Del quartiere Con due vicini Quindi Potremo andare In realtà In palestra Con la nostra Danielle Oggi E discutere un po' Di politica Di sinistra O di destra La nostra Danielle Ovviamente Sarà di sinistra Scusatemi Io non sono Politicamente Non sono Tanto attivo Super giù Però lo sto iniziando Diventa Ci sto iniziando A interessarmi Anche dal punto Di vista politico Non sono Né di destra Né di sinistra In realtà Ma se dovessi pendere Sicuramente Sono un po' Più di sinistra Essendo gay Forse Sono un po' Più Dedito A quel lato Ma vabbè Chi se ne frega Sinceramente Stiamo giocando Non dobbiamo Appunto Parlare di politica Non mi interessa Nemmeno In realtà Parlare di politica La nostra Danielle Dice anche Arraj Guarda tesoro Tu hai un bel lavoro Anche molto interessante Perché non ti compri Un tuo Un tuo computer Tesoro Che ne dici Sarebbe anche Il caso Carriera Dibattiti di Ok Potremmo Vedere se riusciamo A discutere Dei cambi di quartiere Accusa gli abiti Anusa gli abiti freschi Di bucato Bellissimo E vediamo Conversazione profonda Di batti No Lamentati Glorifica Non c'è Discuti dei cambi Di quartiere E mi sa proprio di no No Non c'è Va bene Non fa niente Andremo a vedere poi Hai mangiato Ti stai Un attimo Facendo tutto il fatto Qua dai Mangia Arraj Inizierà Fra Un'ora A lavorare Hai saputo Che tu Avete iniziato A frequentarvi Congraudazioni Per il tuo nuovo Fidanzato Ok Siamo molto contenti Sì tesoro Hai parlato Ora mangia In tranquillità Che dobbiamo andare In palestra Oh oh C'è lui Aspetta 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 Abbraccia No Se n'è andato Porca miseria Ma potremmo Chiedere di chiacchierare A Cameron Lewis Vai Così Chiediamo Discutiamo Dei cambi Di quartiere Con lui Magari Discutiamo Anche di Facciamolo subito Questa cosa Della politica Raga Perché non vorrei Sbaglia Ciao Cameron Era da tanto tempo Che non ci vedevamo Come stai? Volevo informarti Che sono stato promosso Aiuta a recuperare La cattiva Anaya Zhang What? Perché sono Incazzati? Lui potrebbe Lavorare suodo In realtà E Spettegola sui vicini Pessimista E bene Discuti Voglio discutere Chiedi della carriera Non c'è discuti Dei cambi del quartiere Eccolo qui E poi Sempre in amicizia Carriera politica Dibatti Di politica Di sinistra Portatore d'acqua Presso l'altra squadra Sportiva Ok Non sembrano avere Lo stesso orientamento politico Le azioni politiche Saranno più difficili Con questo sim Oddio Perché è furente? Avversari Politici Oddio Tra l'altro La moglie di Cameron È in politica Raga Dobbiamo stare attenti Perché magari la nostra Non è una collega Ma sarà Contro di noi Tesoro bello Dove volevi andare? Dov'è che volevi andare? Io devo fare un'altra cosa Che in realtà Vi era piaciuta Anche tanto Andiamo sempre qui E chiediamo di chiacchierare Anzi Vi dirò di più Porta nella cesta Quello ogni volta che si cambia Andremo in palestra E ci portiamo l'Aisa Guerra Quindi andiamo qui Viaggia Ci portiamo Se esce Sì L'Aisa Guerra E ce ne andiamo In una bella palestrina Vediamo che palestre ci sono Penso di aver modificato Delle palestre Credo Spero Eccoci ragazzi Siamo arrivati Praticamente Alla palestra Ovviamente qui piove Abiti Sicuramente cambia abito Mettiamo gli abiti sportivi Raga Ve lo faccio vedere Veniamo qui E raccontiamo Oddio che ho fatto Non lo so Raccontiamo una barzelletta Sui marziani Guarda è un po' grossettina Allora ragazzuoli Questo è Qui è il veluto blu E qui invece È la Pesanti dinamici Diciamo Modificato Da me Allora Ve la voglio far vedere Perché sto Modificando un po' Come vi avevo detto Già tutti i lotti Dei quartieri Sono partito ovviamente Da Willow Creek Questa è la palestra Che ho modificato io Qui come potete vedere Ci ho messo le strutture D'arrampicata Perché nessuna palestra Aveva la struttura D'arrampicata Qui c'è un bar Qui c'è invece La zona tapirulan Che si affaccia Raga Su queste vetrate Dove c'è la piscina Che è al piano di sopra Qui c'è l'uscita In realtà La zona di fuori L'ho fatta rimanere Identica Com'era È giusto una parte Di fuori Mentre la parte di sopra Quando si sale Abbiamo da questa parte La grande piscina Al secondo piano Il che mi piace molto Di qui abbiamo Come potete vedere Al centro Una sauna Pazzesca E qui raga Dietro Abbiamo invece La zona dove si può fare yoga E dove c'è appunto La musica In realtà io questa L'ho concepita Com'è una piccola zona Una piccola sala Dove si può fare Un po' di step Un po' di attività Corpo libero E qui ci sono ancora Due tapirulan C'è un terrazzino E da questo lato Invece ci sono I due Tra virgolette Spogliatoi O meglio I due bagni Il che mi piace molto Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Nei commenti Se vi piace questo lotto Credo sia scaricabile In galleria Con l'hashtag Daniele Danzu E spero che Appunto Vi piaccia Allora 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 Potremmo Venire qui E allenarci Insieme Alla nostra Laisa guerra Così ci alleniamo un po' Ci rifacciamo un po' Il fisico Dato che Come potete vedere Che poi non sta mica male A me Non dispiace Affatto Mi avete detto Guarda Vedete Non c'ha neanche Chissà quale grande pancia Mi avete detto Che secondo voi Sarebbe meglio Fosse un po' Più magra Io la farò dimagrire un po' Ma non la voglio Super magra Promuovi la causa Impara a conoscere Vediamo se c'è Discuti Del cambio del quartiere Anche con lei Discuti degli interessi Dai Eliza Pancakes Fa sempre parte Un po' Dei miei gameplay Vediamo un po' Cosa c'è Complimentati per l'aspetto Impara a conoscere Discuti dell'umore Annoiato Why? Perché Oddio Guardate chi c'è C'è Don Notario Bellino Spettegola sui colleghi E poi Amichevole Non c'è discutire Cambi del quartiere Porca miseria O non lo sto vedendo io No Non lo sto vedendo io Forse Ok Facciamola allenare Dov'è Liza 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 Minelli No E' Liza Guerra In realtà Vieni qui Racconto una storia Stravagante Racconto una storia Incredibile Vieni Vieni Ci stia Ah sta venendo lei da noi Meglio Così noi continuiamo A Scusate Metto un attimo Pausa Voglio fare Una foto A Liza E' Scusate Devo fare Così Oh Cosa gli starà Dicendo Ok Parliamo Parliamo Gli stiamo raccontando Una storia incredibile Chissà se Riusciremo A capire un attimo Qual è il segreto Dei nostri genitori Poi 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 Chiedi Della sua giornata Dov'è Se ne sta andando E ovviamente è andata a vedere Si è andata a sedere vicino A Don Lotario Chiama la stupida Io volevo fare un'altra cosa Altri sim A coppia con Non c'è David Borgi Ragazzi No Molto bene Ah ok Devono stare Tutti e due Ok Allora dobbiamo fare Forse prima una cosa Amichevole Altri sim Elogia un altro sim Ok Possiamo Elogiare David Borgi E Perché io li voglio accoppiare E questa accoppiata A voi Non è neanche dispiaciuta Raga Ehm Discuti dei giochi più recenti Wow Sarei felice di conoscerlo E valla a conoscere Tesoro bello Ehm Dobbiamo riuscire A Discutere Dei Dei Cambi del quartiere Come posso fare Chiedi dell'autore preferito Ancora no Discuti dei giochi Discuti Ecco Ce l'abbiamo fatta Raga Ce l'abbiamo fatta Lei sta facendo Che si alza Si abbassa Si alza E si abbassa Ce la facciamo A fare Sì Ce l'abbiamo fatta Raga Tutti e due Abbiamo guadagnato anche Dei bei soldini Ok Lei non ce la fa più Oggettivamente Ehm Direi Perché è annoiata Discussione noiosa Oh Addirittura Ok Allora vieni qui E Vieniti Ehm Nuota qui insieme Dai Ci piace Ci piace Uh guardate chi c'è C'è Paolo Rocca Il nostro amico Ehm Ma Sì Nuota qui insieme Ce la possiamo fare Sì Ce l'abbiamo fatta Eccoli qui Guardate quanta gente Allora raga Se c'è una cosa che mi piace tantissimo Del mondo di The Sims 4 E che quando si va Nei lotti comunitari Oddio chi è questa signora Nancy Landgrab Che quando si va Nei lotti comunitari Ehm Si riempie Ehm Diciamo i lotti si riempiono Di altri sim Il che mi piace Veramente troppo Discuti degli interessi Ehm Spaventa No che spaventa No ma che Sì stava chiacchierando In realtà Spettegola vai Quella stava notando Col vestitino E col cappello Mi sembra giusto raga E' un giusto compromesso In realtà Scatta una foto insieme Cosa c'è di più rilassante In autunno Di andarsi a fare una nuotata Ok Oddio Quanta gente c'è Summer Holiday Paolo Rocca E qui c'è Catrina Caliente Ok Quelle si fanno la foto insieme Ehm Allenamento Ah Ecco 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 Una sessione di yoga Ehm Esercitati nello yoga Vai Voglio iniziare anche un po' di yoga Perché no E c'è un Brent Hacking Qui Io i Brent e Brant Non li ho ancora Ehm Modificati raga E' bello quando fanno yoga Che si levano le scarpe E' bellissima questa cosa Ok Facciamo yoga con la nostra Ehm Daniele Uh No vabbè Perché Perché No mi piaceva Quell'immagine Poteva essere molto interessante Speriamo che si gira da questo lato No Non fa niente Ehm Fa ancora E' concentrata Ok Adoro Raga E' troppo Troppo Catrina Ok Uh Girl Bellina Mi piace Questa immagine Ok Mi piace troppo Questa immagine Ma sbuo raga Bellina Guardate che viso Che ha comunque La nostra Daniele Scusate ma Indipendentemente dal fisico Che è un po' più rotondetta Non mi dispiace nemmeno Devo essere sincero Daniele E' veramente bella Mi è uscita davvero bene Questa simmina Ok Lei non deve fare Granchè In realtà Sta facendo benessere Ehm Il suo Oh C'ha un po' di Libri Ok Possiamo tornare a casa Raga E aspettare appunto Il nostro Rage Rasoia Volevo andare Un po' Appunto avanti In questo modo Volevo appunto Essere prom Oddio ma sta nevicando Willow Creek Bellissimo Peccato che Vabbè Sono andato via Volevo fare Volevo fare un paio di episodi Nel prossimo episodio Raga Si scoprirà qualcosa Ve lo dico già Della nostra Del segreto Appunto Che i nostri genitori Stanno dando Alla nostra Daniella Sarà molto Molto importante E' tornato anche Raj da lavoro No Raj risulta A lavoro Raga E quindi Fino a che ora Lavora? Lavorerebbe fino alle 17 Lavora sodo Normale Vediamo se riesce Forse dobbiamo fare Lascia in anticipo Eh si Non si sa Vabbè Lui risulta al lavoro Raga Ma tutto bene? No Vabbè Assurdo Ok Provo a fare una cosa Salvare Ogni tanto Quando ci sono Dei bug Dei blocchi Anche il salvataggio Semplicemente Fa Modificare le cose Il che Non è successo In questo caso Non è successo Va bene Va bene Così Nel decimo episodio Vi ricordo che io poi Riattiverò La crescita Dei nostri Simmini Hai saputo al bar Che c'è la notte Dei cavalieri Non ci interessa Tesoro Riattiverò appunto Diciamo la crescita Dei nostri simmini Perché Voglio Che comunque La nostra Cosa sta succedendo? Prendi Una Porzione Va bene Prendi una porzione Avevi proprio Questa fame Pazzesca Perché è furente Vicini i rumorosi Sì Ho capito Teso Infatti ci andrai tu Da tua madre Tra l'altro Bussa la porta Se tornassi da lavoro Sarebbe ancora meglio Sarebbe molto Molto meglio Ok Mammina Devi stare in silenzio Lamentati Furentemente Del lavoro Del rumore Della serie Tesoro Da quando me ne sono andato Non è che Devi fare il cazzo Che ti pare a casa Meno feste E più tranquillità Forza Su via Dormi Ok Lei sta andando in bagno Poi la facciamo andare A fare la doccia Ma è andata In due secondi In bagno Che rottura Poi le farei fare La lavatrice Assolutamente Volevo dirvi qualcosa Ah sì sì Volevo dirvi questa cosa Raga A maggio Intorno alla metà di maggio Partirà una nuova serie Sul mio canale Molto divertente Ho già iniziato A registrare gli episodi Perché Praticamente Uscirà un episodio Detro l'altro E sono contentissimo Perché ci interromperemo Un po' Con la nostra Daniele Con la nostra Legacy Challenge Per dare la possibilità A tutti di Conoscere la Legacy Ma soprattutto Per darvi la possibilità Diciamo Di anche appassionarvi A questa nuova serie Ora Vi lo dico subito La Legacy continuerà Subito Io ho fatto questa cosa Perché in quelle due settimane Lavorerò Sarò fuori Andrò a Bologna E poi andrò A Lugano Per spettacolo E siccome non avrò Molto tempo Per registrare La Legacy La voglio registrare Insieme a voi Nel senso che Non voglio registrare Troppi episodi prima E poi pubblicarli Perché voglio sapere Cosa ne pensate Della Legacy Allora ho deciso Di interromperla Un attimo Ma proprio Per quelle due settimane E poi ricominciare dopo Perché quella serie Che andrò a fare È una serie Molto breve Molto piccola Che secondo me Vi piacerà Un sacco Raga Perché A parte che mi sto divertendo Un sacco a registrarla E soprattutto È una cosa che Ho pensato Da tantissimo tempo E che Devo dire Oh no Ha variato fra 25 minuti Vabbè proviamo A prendere una porzione Al volo Vai Chissà Magari ci riusciamo No Lei mangerà La cosa variata Ok Questo è variato La porzione ancora no Forse no Eccellente Adoro Adatto Ai vegetariani Molto bene Ok mangiamo E quindi vi dicevo Sarà una cosa Molto molto divertente Spero vi piace Non vedo l'ora di farvelo Di farvela vedere Per l'appunto Allora Mangiamo Poi raccogliamo I cumuli di abiti E facciamo una lavatrice E poi terminerei qui L'episodio Perché lei oggi Non andrà al lavoro E questa giornata di venerdì Sarà molto importante Perché appunto Nel prossimo episodio Vi farò vedere Una cosa Abbastanza Clu Del Chi è questa Yumiko Hayashi Ok Vai a dormire Va bene ragazzi Allora se siete nuovi In questo canale Vi invito A Vi invito A riscrivervi Al canale Così da rimanere Aggiornati In questa legacy O comunque Nei nuovi episodi Poi Cosa vi volevo dire Cosa vi volevo dire Sì Io come al solito Mettete un mi piace A questo video Commentate Non vedo l'ora Di leggere i vostri commenti Altra cosa Youtube Sta cancellando Gli iscritti Quelli che Praticamente Gli iscritti Inattivi Quindi in automatico Tanti io Tante persone Si vanno a iscrivere Tante io ne perdo In realtà Perché magari Ci sono iscritti vecchi Che non mi seguono più E si sono dimenticati Di togliermi l'iscrizione E quindi ogni tanto Perdo degli iscritti Ma molto bene Va bene A me interessano I numeri attivi In realtà sul canale E niente Iscrivetevi al canale Commentate Mettete mi piace Condividete Fate quello che vi pare Insomma Non vedo l'ora Di comunicare con voi E niente Ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti